Alle 11 in contemporanea con il resto d'Italia è stata data la lettura dell'elenco dei nomi delle vittime innocenti e delle mafie, un elenco troppo lungo di quasi mille nomi e cognomi per farli vivere ancora, per non farli morire mai, per farli esistere nella loro dignità e rinnovare l'impegno per la legalità e la giustizia in loro nome, per essere accanto alle loro famiglie delle quali oltre il 70% non conosce la verità sulla morte dei propri cari. Mi sai dire il significato di questa manifestazione di oggi? Il significato è che bisogna dire no alle mafie perché sono sbagliate e fanno solo del gran paura alle persone. Da dove vieni? Quale classe frequenti? Io sono qua di Sanremo, vengo dall'Agraria e frequento la terza. Che cosa significa questa manifestazione? Sicuramente è una manifestazione molto importante, è importante essere sempre tutti uniti, è questa una giornata molto bella. È molto importante, bisogna essere tutti uniti per contrastare queste criminalità. È importante perché bisogna sempre ricordare queste vittime e sono molto felice che abbiano aderito tutte le scuole della provincia d'Imperia perché è un evento molto importante e penso che sia anche una bella cosa. Che significato ha per te questa manifestazione? Questa manifestazione secondo me è molto importante per far capire alla gente tutti i morti che ci sono stati grazie alla mafia che si sono sacrificati per avere un mondo migliore diciamo. Beh sì, è giusto e oggi noi siamo qua per la manifestazione dei morti che sono venuti per la mafia e per combatterla. È importante per le vittime che sono morte a causa della mafia. Perché ricordiamo le vittime che sono mancate a causa della mafia. Perché sono morte tante persone a causa della mafia e quindi mi sembra giusto ricordarle. Per ricordare tutte le vittime di mafia che ci sono state in tutti questi paesi è una brutta sensazione per quelli che l'hanno vissuta.